In attesa di conoscere i prossimi mesi della scuola italiana, gli istituti superiori della provincia di Ravenna tracciano un primo bilancio positivo dell'attività condotta a distanza con gli studenti iniziata ben prima che la regione Emilia-Romagna mettesse a disposizione i propri canari istituzionali per garantire il servizio a tutti. Quasi tutte le scuole di Faenza, Lugo e Ravenna infatti si erano attrezzate autonomamente su diverse piattaforme per garantire agli studenti la prosecuzione in qualche modo dell'offerta didattica mediante lezioni, verifiche, compiti, interrogazioni ma soprattutto un minimo di interazione quotidiana docente e studenti indispensabile soprattutto per i ragazzi di quinta superiore e un'invasione dalla routine dell'isolamento. Sono proprio gli studenti di quinta coloro che più di tutti stanno partecipando in queste settimane alla didattica a distanza con maggior impegno come d'altronde è naturale che fosse. Per loro, al termine del periodo di emergenza, ci sarà l'importante esame di maturità anche se al momento non è possibile concepirne ancora le modalità. In molte scuole, d'altronde, i servizi utilizzati oggi per la didattica online erano già ampiamente diffusi anche se ovviamente non nell'attività quotidiana di insegnamento. La piattaforma a cui molti hanno fatto ricorso è stata la suite di Google sulla quale già venivano condivise informazioni e documenti, oltre a discussioni fra insegnanti e alunni. Per i meno esperti, molti istituti hanno organizzato video guide e le normali FAQ per rispondere alle domande di ragazzi e famiglie e permettere a tutti gli iscritti di continuare con il programma. Le difficoltà maggiori sono arrivate da tutti quegli studenti che non abitano in zone dove è disponibile una connessione internet sufficientemente rapida per usufruire della didattica a distanza. In questi casi è stato necessario attivare modalità di insegnamento diverse o appuntamenti programmati, in modo tale da lasciare ai ragazzi dove possibile il tempo necessario di organizzarsi e riuscire a trovare una connessione rapida quando ancora gli spostamenti fuori da casa erano possibili. A seconda della partecipazione degli studenti è quindi possibile in questi giorni affrontare punti nuovi del programma scolastico, anche se in maniera meno approfondita. È il caso, per esempio, delle quinte, dove gli studenti stanno rispondendo in maniera giudicata molto responsabile dagli istituti. L'alternativa, invece, per le altre classi sono lezioni di approfondimento e recupero. La valutazione di verifiche e interrogazioni, invece, è un discorso un po' più delicato. Nella maggior parte dei casi i ragazzi vengono comunque valutati dall'insegnante, anche solo semplicemente per avere un riscontro del lavoro svolto, ma la valutazione non viene ancora inserita nel registro elettronico. La mancanza maggiore, sottolineata dalla gran parte degli insegnanti, è però il fattore umano e relazionale, fra i ragazzi e fra gli alunni e i professori. Un discorso, infatti, è una lezione guardandosi negli occhi. Un altro discorso è una lezione mediata attraverso lo schermo di un computer. Oltre, però, alla mera questione didattica, i ragazzi sono abituati anche a relazionarsi con alcuni docenti per chiedere consigli, dissipare dubbi, affrontare questioni che non sempre riguardano l'ambito scolastico. Un rapporto, questo purtroppo, che una conversazione in videochiamata non riesce a sostituire.